Questa lezione ci permetterà di rilassare e scaricare sia la mente e il peso accumulato a livello del tratto dorso cervicale e nel capo e scaricare anche le tensioni psicofisiche per migliorare poi la nostra capacità di rilassamento globale e prepararci per il rilassamento e la notte. Ascoltiamo il nostro respiro, qualche respiro profondo, chiudiamo gli occhi e ascoltiamo come respiriamo, come respiro nel petto e come respiro nella pancia, qualche respirazione profonda, inspiro, l'aria entra nel naso fino al mio ventre, espiro, lascio andare, inspiro, trattengo, espiro, lascio andare. Ancora un respiro e ascolto la sensazione. E quando espiro le mie sensazioni di tensione o rigidità, li lascio andare, buttando bene fuori l'aria. Ancora un respiro e pongo poi la palla sotto al mio capo. Lascio andare bene il peso del mio cranio e delle mie spalle. Ancora un bel respiro ed espiro, lascio andare la testa. Inspiro bene dal naso, apro i miei polmoni, le mie spalle, e trattengo il respiro nel mio petto. Espiro, lascio andare la testa sulla palla, espirando fino in fondo. Ancora qualche respiro e quando espiro lascio andare il peso delle spalle e delle mie braccia a terra. Ancora un respiro profondo, ancora un respiro profondo, trattengo l'aria. Espiro, rilasso la mia nuca. E quando espiro, rilasso la mia nuca. Quando sento che la mia testa si è abbandonata, le mie mandibili rilassate, le spalle rilassate, allora posso prendere le altre due mezze palle e porle sotto ai glutei e andare a scaricare anche il fondo della mia schiena. Di nuovo sento bene ancora la mia testa, le mie spalle che si rilassano, il mio dorso e il mio bacino che si abbandona su queste palline. Il respiro diventa più lento e più profondo. Inspiro fino alla mia pancia. Rilascio l'interno coscia. Ispiro, lascio andare. Ispiro, apro. Apro le spalle, gonfio il ventre, trattengo e ascolto ogni mia sensazione. Espiro, lascio andare. Verso queste palline. Tutto scorre dall'alto del mio respiro e della mia testa. Scorre lungo la mia colonna, sino a queste palline. E buttando fuori l'aria, penso di lasciare scivolare l'aria verso i piedi. Ispiro dall'alto e mi lascio andare, ancora una volta, verso i piedi. Posso continuare con questa respirazione fino a quando non mi sento più rilassato. Se qualche tensione, rigidità o pensiero arriva alla mia mente o al mio corpo, semplicemente lo ascolto e col respiro ci entro dentro lasciandomi andare a questa sensazione profondamente e quando respiro la lascio andare. Questi sono esercizi molto semplici che ci possono accompagnare verso i nostri momenti di riposo, di recupero e prima del sonno. Sono sempre esercizi di base, di bioginnastica, ma somministrati con una maggiore lentezza e profondità. Per saperle di più, i nostri operatori e i biostudi sono a vostra disposizione e vi auguro buon relax. Ciao. Grazie a tutti.